Buonasera, 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 buonasera. Sabato e ieri, dopo aver forzato una finestra laterale, si sono introdotti dentro la sede del municipio rovistando nei cassetti degli uffici alla ricerca di denaro o qualcosa di interessante da portare via. Ma nulla, secondo quanto ricostruito ieri da polizie e carabrieri, sarebbe stato toccato o portato via dai ladri. In particolare gli ignoti non sono riusciti ad aprire la cassaforte all'interno della quale vengono custoditi le carte d'identità in bianco in attesa di essere compilate del denaro contante che l'ente incassa per il pagamento dei tributi dovuti al comune per il rilascio dei certificati agli utenti. Come dicevamo, è l'ennesima intrusione che viene effettuata all'interno di questa sede del comune di Canicati in passato. I ladri avevano posto la loro attenzione sui distributori automatici di bevande, snack e caffè, portando via le monetine che si trovavano all'interno oppure alcuni computer che erano all'interno degli uffici comunali. Stavolta però sembra che nulla sia stato portato o toccato. Sono stati alcuni impiegati ieri mattina a fare la scoperta dell'intrusione notturna dei ladri. Subito è stato avvertito il sindaco Corbo che ha girato la segnalazione a polizie e carabinieri. In via Iende sono confluite le volanti del commissariato e le auto dei carabinieri. Soposto anche la scientifica nel tentativo di rilevare impronte digitali che possono far raggiungere alla individuazione dei ladri che sono entrati in azione. Le forze dell'ordine stanno in queste ultime ore acquisendo le registrazioni nella speranza che possano dare un nome ed un volto ai responsabili dell'intrusione e del tentato furto. Rimaniamo a Canicatti dove non sembra volersi arrestare l'ondata di furti che sta interessando la nostra città. Anche la scorsa notte numerose abitazioni di campagna di Contrada Caizza sono state visitate. Dei ladri che hanno portato via di tutto, derrate alimentari, attrezzi agricoli, ettrodomestici, numerose le denunce presentate dai proprietari agli agenti della polizia. Intanto le forze di polizia ieri hanno recuperato un ciclomotore che era stato rubato in Largo Aosta e rinvenuto nei pressi del cimitero comunale di Via Nazionale. Sempre la polizia ha rinvenuto la Fiat Uno rubata nei pressi della chiesa di San Biagio nelle notte tra sabato e ieri e ritrovata in Contrada Montagna. Dopo aver vagato per ore a piedi, addirittura raggiungendo Canicatti da Catania, tre giovani extracomunitari si erano rifugiati all'interno della chiesa della Sacra Famiglia. Protagonista di questo lungo viaggio, tre giovani immigrati eritrei di cui due sedicenni e il terzo poco più grande di 17 anni. Il parroco Don Massimiliano D'Auria, dopo aver visto i tre seduti tra i banchi della chiesa, ha deciso di chiamare il sindaco Corbo chiedendo un suo intervento. Il capo dell'amministrazione comunale, accompagnato dal vice Ghetano Rizzo, si sono precipitati così alla chiesa Sacra Famiglia. Dopo aver chiesto loro delle informazioni, hanno avvertito gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza che sono intervenuti sul posto. I tre sono stati identificati, una volta accertato che non avevano precedenti penali o problemi pendenti con la giustizia, sono stati affidati momentaneamente al sindaco e al suo vice in attesa che potesse essere trovata una sistemazione. Sindaco e vice, mentre attendevano indicazioni della prefettura di Egregento su dove accompagnare i tre giovani giunti sulla costa della Sicilia con un barcone, li hanno accompagnati in pizzeria per farli rifocillare. A tarda sera è arrivato dalla prefettura il via libera a condurre i minori in una struttura di accoglienza che esiste in città. Vi rimarranno sino a quando non saranno rilasciati i documenti da rifugiati. Il tribunale di Sciacca ha condannato a otto mesi di reclusione Mario Antonino Rizzolo, 50 anni, di Alessandria della Rocca, titolare di un'agenzia viaggi. L'uomo dovrà risarcire le parti civili, che sono 19 componenti del gruppo bandistico Giuseppe Verdi di Santo Stefano di Quisquina, i quali nel 2011 avrebbero dovuto recarsi l'America, ma giunti all'aeroporto di Palermo si sono accorti che al loro nome non vi era alcuna prenotazione. E così sfumò la loro partecipazione al festa italiana di Milwaukee. La pena è stata sospesa a condizione che l'agente viaggi paghi il danno alle parti offese. I giudici del TAR di Palermo hanno ritenuto che alcune gare da palto avviate e concluse nel 2011 dal Consorzio ASI, Area Sviluppo Industriale di Egrigento, erano prive delle risorse finanziarie. Importante sentenza emessa dal TAR di Palermo nella vicenda contrassegnata dalle denunce dell'ex commissario straordinario Alfonso Cicero contro amministratori e dirigenti dell'ex Consorzio ASI di Egrigento, nel frattempo sottoposti a richiesta di rinvia giudizio per abuso d'ufficio e truffa formulata dalla Procura della Repubblica di Egrigento a seguito delle indagini scaturite dalla denuncia del commissario straordinario nel 2012. Con il provvedimento depositato lo scorso 5 marzo, anche i giudici amministrativi, facendo seguito a quanto già fatto proprio dagli uffici del Pubblico Ministero sotto il profilo penale, hanno ritenuto che alcune gare da palto avviate e concluse nel corso del 2011 dal Consorzio ASI di Egrigento, erano viziate da illegittimità perché prive delle risorse finanziarie necessarie a sostenerle. In particolare è stato appurato da parte dei giudici amministrativi che l'affidamento dei lavori di progettazione alla sedita RSRL da parte del dirigente dell'area tecnica e consortile Sabatore Callari, in ciò autorizzato dal dirigente generale del Consorzio ASI di Egrigento dell'epoca, Antonio Casesa, non poteva essere effettuato perché mancavano le risorse finanziarie per farvi fronte. In pratica, in dispregio alle elementari regole di contabilità pubblica, i dirigenti in questione avevano impegnato il Consorzio a sostenere una spesa ingente, l'importo a base d'asta previsto era di 153.078 euro, senza aver prima provveduto a verificare che le somme dovute ai professionisti ai quali era stato aggiudicato il servizio di progettazione in questione riguardante il completamento delle opere di urbanizzazione primaria nell'agglomerato industriale di Aragona Favara, fossero effettivamente presenti e disponibili. Chiai sono stati i giudici amministrativi nell'affermare che la gara è stata bandita dai dirigenti senza alcun atto che legittimamente potesse autorizzare la spesa, che non si sono curate di salvaguardare l'interesse pubblico, impegnando l'ente in una spesa priva di finanziamento. La sentenza in questione, peraltro, fa da battistrada da altre due controversie di identico tenore generata dallo stesso comportamento tenuto dai dirigenti in questione che sempre nel corso del 2011 hanno bandito altre due gare di progettazione prive di copertura finanziaria, successivamente censurata ed annullata dei nuovi responsabili del Consorzio Asi di Egregione e Liquidazione. Peraltro, le stesse motivazioni sono state poste alla base della richiesta di invia a giudizio formulata alla Procura della Repubblica di Egregento per ipotesi di abuso d'ufficio nei confronti degli stessi dirigenti sulla quale, unitamente ad una lunga serie di altre ipotesi di reato a carico dei dirigenti in questione e di altri nove soggetti tra ex amministratori e dirigenti dello stesso Consorzio Asi di Egregento, a breve si pronuncerà il GUP presso il Tribunale della Città dei Templi che ha ammesso tra le parti civili l'ex Consorzio Asi di Egregento, l'assessorato regionale alle attività produttive e convidusti a Egregento. Anche la Procura regionale della Corte dei Conti sarà chiamata a pronunciarsi sull'illegittimo comportamento tenuto nell'occasione dai dirigenti del Consorzio visto che la sentenza numero 605 2015 è stata trasmessa al Tar Palermo ai giudici contabili per i danni eriali che la stessa risulta sancire in capo ai responsabili. Successivamente, tenuto conto che la ricordata sentenza ha posto a carico del Consorzio Asi di Egregento l'obbligo di formulare una proposta all'impresa giudicataria per il riconoscimento delle spese derivanti da responsabilità extra contattuale causata dalla fretta con la quale il dirigente generale Casesa e il dirigente dell'area tecnica Callari hanno bandito la gara e assegnato la progettazione senza curarsi dell'esistenza del decreto di finanziamento tuttora mancante, l'ente procederà a citare in giudizio i responsabili per richiedere il ristoro dei danni in tale modo subiti. È di natura incerta l'incendio che ha racalmuto o ha danneggiato una Volkswagen Golf di proprietà di un medico. Si tratta di una donna che presta servizio all'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela. Il mezzo era parcheggiato in Via dei Mille nel centro storico del paese della Ragione. Erano quasi le due della nottata tra sabato e ieri quando è partita la richiesta di intervento ai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattina attesa dei quali i familiari della proprietaria hanno cercato di domare le fiamme. L'opera di spegnimento è stata poi completata dai pompieri. Sul posto anche i carabili della stazione di Racalmuto che hanno avviato le indagini. Visitata dai ladri la chiesa Beata Maria Vergine dell'Immacolata in Via Roma a Siculiana. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi ma la notizia è trapellata soltanto adesso. I gnoti introdotti sì nel luogo di culto attraverso l'entrata secondaria si sono diretti verso le cassette delle offerte svuotandole. Poi hanno rivistato fra armadi e cassetti della Sacrestia rubando un sacchetto con altre monete. Il danno, secondo la prima stima, monterebbe ad oltre 500 euro indagano i carabinieri della stazione di Siculiana. 400 metri di cavi conduttori in rame della linea elettrica sono stati rubati in località Mandrascava tra il quartiere del villaggio Mosè e il Bibio Pernaro alla periferia di Agrigento. Il danno ammonta a 3.500 euro. I malfattori hanno tranciato con delle forbici i cavi utilizzando quasi sicuramente per il trasporto un autocarro. Indagini in corso da parte dei carabinieri del villaggio Mosè. Nella serata di sabato scorso i carabinieri della Compagnia di Ricata hanno intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire prima e dopo i reati in genere e per il controllo dei luoghi solitamente frequentati a malavitosi. L'attività di militare dell'arma è stata anche indirizzata nelle zone di aggregazione di giovani quali pub e sale da gioco. Sono state impiegate otto pattuglie della Compagnia di Ricata del dodicesimo battaglione carabinieri Sicilia di Palermo reparto a quest'ultimo che è stato chiamato a dar manforte all'arma territoriale. Controllate 61 persone e 42 veicoli elevate contravvenzioni per violazioni varie al codice della strada per un ammontare complessivo di 1.850 euro. 5 le carte di circolazione ritirate mentre due mezzi sono stati sottoposti a sequestro per mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità civile automobilistica. A Palma di Montechiaro invece sono state arrestate due persone per furto aggravato all'interno di un supermercato dell'Ur. Minacce, ingiurie e resistenza a pubblico ufficiale. Queste le accuse di cui deve rispondere l'agrigentino Pietro Ernesto, 39 anni, arrestato sabato notte dai poliziotti della sezione volanti in via Atenea. L'uomo su disposizione del sostituto procuratore, Antonella Pandolfi, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Stando a quanto ricostruito dalla questura di Agrigento a chiamare la polizia, sarebbe stato il proprietario di un bar pub. Il 39 anni, a quanto pare, sotto l'effetto di alcol, avrebbe infastidito alcune persone. Quando sul posto poi sono arrivati gli agenti, Pietro Ernesto le avrebbe ingiuriati e minacciati. Nella notte a cavallo tra sabato e ieri, i carabinieri della tenenza di Libera hanno tratto in arresto in fragranza di rissa aggravata i romeni Georg Kostmin Kretu, di 21 anni, a Alexandro Relu Kretu, di 25, e Nicole Zlatinale, di 23, tutti i bracenti agricoli domiciliati a Ribera. L'episodio si è verificato in pieno centro urbano, nei pressi di via Pier delle Vigne, e ha visto la partecipazione di circa 25 persone verosimilmente in pre dei fumi dell'alcol. All'intervenire su segnalazione telefonica è stata la pattuglia in servizio di controllo del territorio della tenenza dei carabinieri che è riuscita a bloccare immediatamente tre dei partecipanti alla baruffa, sequestrando anche un bastone in legno di 90 cm ad avviare le indagini per l'identificazione di altri soggetti. Al tema delle formate di rito, i tre sono stati tradotti su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca presso le proprie abitazioni dove dovranno permanere in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Non ci sarà nessun nuovo processo, tantomeno una condanna all'ergastolo. Il secondo processo di revisione per l'omicidio di Fortunato Belladonna si conclude con la sentenza di assoluzione per Felice Eros Turco, 38 anni, che state vedendo nella foto. Lo ha deciso la Corte Assisi d'Appello di Messina che era spinto la richiesta della Procura Generale. Felice Eros Turco, assistito all'Avvocato Sinatra, era stato assolto anche per l'omicidio del commerciante Orazio Sciaccia. Quando venne arrestato per la prima volta aveva 20 anni, 10 li trascorse in carcere per scondare una condanna all'ergastolo. La Procura di Caltanissetta lo aveva scagionato dopo le rivelazioni dei pentiti. Dopo la conclusione dell'inchiesta della Procura Antimafia, emerse che ad uccidere il commerciante Sciaccio furono Salvatore Collure e Salvatore Rinella. I due omicidi sfuggirono al controllo di Cosa Nostra. Il commerciante Orazio Sciaccio ucciso in una rapina fita nel sangue a pochi metri dall'abitazione di Daniele Emanuello. Il delitto invece di fortunato Giovannino Belladonna, a cui doveva solo essere impartita una lezione, il primo a riparlarne fu Emanuele Celona. Cambiamo argomento. I promotori della manifestazione che si è tenuta sabato ad Agrigento in favore della gestione pubblica dell'acqua smentiscono la nota diffusa dalla Gergenti Acqua. Secondo quest'ultima, infatti, sarebbero state un centinaio a parteciparli, mentre gli organizzatori parlano di un migliaio di persone, così come ci conferma uno dei partecipanti, il consigliere comunale di Canicattia Antonio Maiera. Consigliere Maiera, probabilmente la manifestazione di sabato ad Agrigento avrebbe meritato ben altra partecipazione di pubblico. Questo sì, effettivamente la partecipazione per la motivazione doveva essere più ampia, però va letta in un altro modo. La presenza dei 25 sindaci su 25 che hanno consegnato alla Gergenti Acqua naturalmente rappresentano ognuno il proprio paese, quindi teoricamente come se fossero presenti perché c'è proprio il loro sindaco che li rappresenta. Invece il resto della popolazione, per quanto riguarda i comuni fuori di Agrigento, bisogna valutare che per far pervenire una quantità di persone bisogna affrontare dei costi economici, quindi pagare dei pullman. E l'Intercopa, che è l'organizzatrice di questa manifestazione, non è nella condizione economica di poter affrontare questi costi. Difatti la gran parte ci siamo rivolti ognuno ai nostri sindaci di competenza chiedendo loro di mettere a disposizione dei pullman, perché la volontà dei cittadini almeno di Canicati c'era di partecipare. Però, ahimè, il sindaco di Canicati nonostante sia stato sollecitato da me più di una volta, non ha messo a disposizione nessun pullman, si è solo limitato a delegare il vice sindaco, a rappresentare una città. Noi avremmo preferito che ci fosse lui personalmente come gli altri sindaci, la gran parte dei sindaci totalmente là, tranne lui e qualche altro che probabilmente non era nelle condizioni. Questa è però la manifestazione al di là della partecipazione che secondo me va letta per come ho detto precedentemente. Però c'è stata, è stata massiccia, non certo per come si aspettano le persone, non è più il momento di trascinare una grande quantità di persone, ma va valutato anche il risultato. Sua eccellenza ci ha ricevuto, c'è stato un dibattito, un'esternazione delle problematiche generali e dettagliate, esposte da diversi sindaci, in particolare il sindaco di Memphi e quello di Castel Termini, e l'intervento anche dei nostri relatori. Quindi la problematica sono state messe in chiaro, la sua eccellenza ha preso atto della situazione e si è preso l'incarico di fare il portavoce verso la regione siciliana, verso il Presidente Crocette. Ci ha dato delle ottime speranze, il suo impegno sicuramente non mancherà, speriamo che portiamo a casa dei risultati. Questo è un piccolo passo e sicuramente nella nostra organizzazione ci saranno altre iniziative che faremo e porteremo a conoscenza dei cittadini. Probabilmente anche noi personalmente possiamo organizzare e andare alla regione. A seguito della manifestazione organizzata dal Comitato Intercomunale per la gestione pubblica dell'acqua per chiedere la risoluzione del contratto che affida la società Girgenti Acqua alla gestione del servizio idrico, il Metap Grilli di Agrigento desidera esprimere compiacimento per il numero di persone presenti all'evento e allo stesso tempo rivolgere tutta la sua contrarietà nei confronti della società stessa che in un suo comunicato lo ha voluto ridicolizzare insieme ai suoi partecipanti per la scassa presenza. A questo proposito è bene chiarire alla società che se si creeranno le condizioni per restituire la gestione dell'acqua in mano pubblica questo non dipenderà certo dal numero di partecipanti ad una manifestazione ma avverrà certamente quando certi vecchi sistemi legati ad un antiquato e clientelare modo di far politica saranno spazzati via sia da Agrigento che dalla sua provincia dal Movimento 5 Stelle. Non si illuda la Girgenti Acqua di poter continuare all'infinito a lucrare in genti profitti vessando ancora i cittadini specialmente la classe meno ambiente quindi più in difesa con la complicità di gruppi politici inetti e complici. Stiano pur certi i titolari della società che con un'amministrazione guidata al Movimento 5 Stelle la musica cambierà. E' inadempienza contrattuale anche non riparare con sollecitudine le condotte che i Girgenti Acqua è all'obbligo di mantenere efficienti. Lo afferma il sindaco Fabrizio Di Paolo dopo aver sollecitato la società che da anni gestisce le reti idriche e fognare di Sciacca a provvedere alla riparazione di un lungo elenco di guasti al completamento di ripristini e alla risoluzione di disservizi in alcuni quartieri. Il sindaco di Sciacca ha chiesto anche al lato di Agrigento di valutare la gravità di quanto sta accadendo a Sciacca. Tre casi di febbre e suina sono stati registrati dai medici dell'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela si tratta di due uomini ed una donna quest'ultima una 44enne è stata già dimessa aveva contratto il virus H1N1 conosciuto meglio come suina diagnosticato dal personale dell'ospedale dove ha ricevuto le cure del caso rimanente in isolamento per alcune settimane la malcapitata coniugata e madre di una figlia ha potuto così fare ritorno a casa lasciando l'unità operativa di malattie infettive sono stati diagnosticati altri due casi di persone colpite dal virus la donna potrà completare la cura tra le mura domestiche per i due uomini l'ultimo dei quali ha avuto la conferma della patologia solo sabato con la consegna degli esami inizia il trattamento per la ripresa entrambi sono costretti all'isolamento anche se i medici dell'Unità di Malattie Infettive sono fiduciosi sulla loro rapida ripresa pane venduto tra i quartieri di Gela senza autorizzazioni a bordo di semplici automobili così sono scattati i sequestri ad essere segnalati nei giorni scorsi e sono stati in due il pane veniva caricato sulle automobili per essere rivenduto ma senza le necessarie misure imposte dalla legge i carabrieri hanno effettuato gli accertamenti e sequestrato la merce che successivamente è stata donata ad alcuni istituti della città nei casi scoperti non venivano utilizzati i mezzi previsti della normativa né quelli utilizzati per il trasporto del pane ieri in occasione della festa della donna l'associazione Le Quote Rosa di Caricati ha organizzato la cerimonia di presentazione del libro realizzato da Anita Castellano che ha vinto la sua battaglia contro il cancro alla mammella il libro era intitolato non siamo soli le interviste signor Anita lei è la prova più evidente grazie alla quale si può effettivamente dire che di cancro alla mammella si può guarire sì fortunatamente sì oggi di cancro alla mammella si può guarire oppure si può convivere la prevenzione è importante più presto naturalmente si scopre il cancro e maggiori sono le possibilità di una guarigione naturalmente dipende dal tipo di tumore dalla dalla sua grandezza se ci sono in giro cellule ci sono tantissimi fattori in ogni caso è la prevenzione che sicuramente salva la vita come riuscite lei a vincere questa battaglia? vincere è una parola abbastanza abbastanza grande io non lo so se ho vinto il cancro so che forse ho vinto la malattia che porta il cancro che è la paura della paura quella credo di pian piano averla superata non del tutto ma almeno penso l'80% si lotta si lotta giornalmente si prende la consapevolezza dei propri limiti e ci sono due strade o farsi travolgere dagli eventi oppure tirare fuori tutte le energie tutta la forza il coraggio per affrontare il tutto il tutto che è sicuramente un tutto misterioso un tutto buio un tutto tutto circontato di disperazione di dubbi ma sicuramente dentro di noi se non c'è la luce della speranza tutto è vano noi delle Quote Rose intanto auguriamo e facciamo tanti auguri a tutte le donne e siamo contenti oggi di presentare e ospitare la signora Anita Castellana che ha dato la sua testimonianza che non basta solo la prevenzione ma anche la vicinanza di tutti i familiari e quindi con questo libro che lei oggi presenterà a tutte le donne darà una speranza a tutti quelli che in questo momento hanno dei problemi ma nell'ambito di questa iniziativa non c'è solo la presentazione del libro? no non c'è solo la presentazione del libro però parleremo anche della prevenzione che è importante tra l'altro ci sarà l'intervento di una psicologa e ci sarà anche una conclusione che darà l'onorevole Giancarlo Granate avvocato al quale dirà che non siamo soli che l'aiuto dell'associazione del volontariato dei familiari tutto si può superare con tanto orgoglio oggi si affronta un argomento di rilevanza sociale sicuramente di grande rilevanza sociale infatti io ringrazio l'Equoterosa per aver organizzato questa iniziativa con la presenza e la testimonianza della signora Anita Castellano lanciamo un messaggio di speranza di incoraggiamento per tutti coloro i quali affrontano questo male bruttissimo del cancro nel caso della signora Castellana del cancro la mammella e soprattutto anche rivolto ai loro familiari sono ovviamente dei momenti brutti ma che vanno affrontati con grande coraggio con grande determinazione e soprattutto bisogna fare in modo di non arrivare alla diagnosi cercando di portare avanti la prevenzione la prevenzione infatti è importantissima e per questo colgo l'occasione anzi per invitare non solo le socie dell'associazione Equoterosa ma tutte le signore di Canicattì fra i 50 e i 60 anni a sottoporsi a una visita gratuita presso il reparto di oncologia una visita senologica che serve per verificare appunto e prendere e prevenire quello che è il cancro e la mammella quindi dobbiamo diffondere sempre di più la cultura della prevenzione e la qualità della vita ritengo che le Equoterosa in questo senso stanno facendo un ottimo lavoro e quindi un grande apprezzamento a loro riguardo e un invito alla cittadinanza a prevenire questi mali così gravi e brutti ovviamente la visita senologica all'ospedale per l'olombardo di Canicattì va fatta dietro presentazione di una ricetta medica e al teatro sociale di Canicattì invece su iniziativa dell'assessorato alla cultura formazione e pubblica istruzione sempre in occasione della festa della donna sono state allestite diverse iniziative abbiamo parlato con l'assessore Chiara Farruggio Assessore cosa simbole sono queste scarpe rosse che sono posizionate all'ingresso del teatro sociale e sugli scalini che poi portano in sala queste scarpe rappresentano il sangue di tante donne che sono state vittime di femminicidio è un'iniziativa che è partita da una donna spagnola e ha fatto un po' il tantam in Sicilia la prima esposizione di queste scarpe è stata fatta presso il comune di San Giovanni Gemini e noi abbiamo voluto creare un ponte con queste donne e oggi nel nostro evento non parleremo di violenza alle donne ma parleremo semplicemente di alcune donne di Canicattì e della loro storia della ricchezza di alcune donne canicattinesi però non potevamo non pensare alla violenza di cui molte donne sono vittime e quindi lo abbiamo fatto dando semplicemente un segno visivo che è rappresentato da queste scarpe rosse nella speranza che poi ci sia però una continuità che ci siano delle donne che si interessino della violenza e dei diritti delle donne perché abbiamo tante associazioni di Canicattì ma abbiamo potuto toccare con mano parlando anche con le forze dell'ordine che mancano delle associazioni che si occupino proprio delle donne Nel contesto di questa iniziativa legata alla festa della donna c'è anche una mostra artigianale c'è una galleria d'arte Sì abbiamo voluto proprio dare la possibilità alle donne artiste di Canicattì di esporre i propri manufatti i propri quadri le proprie creazioni artistiche per avere uno spazio proprio dedicato alle donne un pacchettino regalo con dolci a forma di mimosa distribuiti ieri 8 marzo a tutte le donne che lavorano sono ricoverate per motivi di salute all'ospedale Berlore Lombardo di Canicattì una iniziativa originale voluta e organizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Corbo e visto impegnate oltre agli assessori alle consiglieri comunali donne che operano in città anche lo stesso primo cittadino un'iniziativa messa in campo davanti a tutte le chiese della città dove è uscita la Santa Messa le donne che hanno partecipato alla funzione religiosa della domenica hanno avuto distribuiti da giovani volontari il pacchettino con dentro l'omaggio dell'amministrazione comunale in questa importante ricorrenza dice il sindaco Corbo abbiamo voluto rivolgere il nostro pensiero a tutte le donne della nostra città donne che ricoprono un ruolo importante nella nostra società ogni giorno mancano le chiavi della pista dell'isoccorso all'ospedale di Donforte in provincia di Enne un paziente colto da infarto in attesa di trasferimento a Enna o Catania rischia di morire il volto della mala sanità o meglio della mala amministrazione della sanità ha rischiato di materializzarsi nuovamente in Sicilia solo l'abbattimento del cancello sulla pista dopo circa 20 minuti di van e angosciosa attesa che dal comune arrivasse il reperibile con le chiavi ha permesso all'infartuato e all'ambulanza di raggiungere l'elicottero pronto al decollo a denunciare l'episodio il Movimento 5 Stelle e il Comitato Pro Salute dell'ospedale a quanto pare non sarebbe la prima volta che il mancato arrivo delle chiavi abbia rallentato drammaticamente la macchina dei soccorsi la sala convegni di Palazzo Stella a Canicattì ha ospitato una conferenza organizzata dal Lions Club Canicattì Oste presieduta Alfonso Lacarrubba nel corso della quale si è parlato del tumore della mammella una malattia guaribile il ruolo della breast unit sentiamo il direttore generale dell'ASP1 di Agrigento Savotone Lucio Ficarra Dottore Ficarra è sotto gli occhi di tutti che la campagna di prevenzione la diagnosi precoce e la ricerca hanno contribuito a fare un notevole passo in avanti per la soluzione di carcinoma dei tumori ma ancora c'è da fare molto ancora c'è da fare molto però come abbiamo detto in questo interessantissimo convegno l'azienda sanitaria si è mossa a 360 gradi e mentre nel 2012 anno in cui sono iniziate le campagne di screening la popolazione target invitata era del circa il 20% quest'anno contiamo di raggiungere il 100% della popolazione con gli inviti quello che va detto però è necessario sensibilizzare la popolazione a partecipare perché noi possiamo solo invitarli ma non possiamo costringere nessuno a partecipare allora il messaggio che abbiamo lanciato e che vogliamo lanciare è che se partecipa il 25% delle donne target cioè quelle che vanno da 50 anni a 69 anni e abbiamo scoperto con una partecipazione del 25% agli inviti che c'erano 17 tumori nascosti che nessuno sapeva se invece partecipano tutte le donne invitate è chiaro che riusciremo a scoprire 100 tumori e a salvare 100 vite umane quindi di tumore alla mammella si può guarire di tumore alla mammella come si è detto nel convegno sicuramente se preso in tempo utile 9 donne su 10 guariscono l'importante è lo ribadiamo partecipare alle campagne di screening sono del tutto gratuite non si paga nulla l'esame non è un esame cruento è una semplice radiografia raggi X l'esposizione è bassissima pari come ha detto l'esperto ha tre giorni di sole presi in montagna quindi non stiamo parlando di nulla non esistono liste d'attesa hanno una priorità assoluta tutte quelle signore che partecipano allo screening visto che lei è il massimo responsabile è quello stato di salute in provincia di Agrigento della sanità lo stato di salute la provincia di Agrigento esce da 4 anni circa di commissariamento io ci sono solo da 6 mesi come è noto e quindi i commissari un po' per la funzione del commissario stesso hanno agito con una gestione ordinaria e mai pensando ovviamente di programmare anche perché non rientrava probabilmente del loro compito quindi noi abbiamo trovato molte cose accantonate stiamo lavorando per riportare Agrigento oltre che agli standard che merita quelli che ovviamente sono necessari per evitare che la popolazione agrigentina si serva di servizi fuori dalla provincia a oggi le basi ci sono si parla di malasanità fortunatamente fuori dalla nostra provincia e vogliamo dare merito anche agli operatori sanitari della provincia di Agrigento che ogni giorno risolvono centinaia di casi e mai nessuno ne parla perché si parla del caso di malasanità ma di quelli di buona sanità ogni giorno moltissimi sono risolti e mai nessuno ne parla quindi noi ci complimentiamo anche con questi operatori si deve semplicemente diciamo affinare che cosa cercare di fare coincidere la domanda con l'offerta sanitaria in questa provincia in realtà questo non è stato mai fatto ci sono eccessi di offerte sanitarie per cose che non servono e mentre c'è un eccesso di domanda per cose che servono ecco noi dobbiamo arrivare al riequilibrio dobbiamo dare quello che serve e levare quello che non serve il traghetto Sansovino in servizio di linea con le isole Pelage è rientrato questa notte in porto poco dopo la partenza a causa di un'avaria all'apparato motore l'unità partita da Porta Empedocle con 30 persone di equipaggio 21 passaggeri e 17 veicoli commerciali poco dopo mezzanotte ad una distanza di circa 4 mili dal porto ha comunicato alla sala operativa della capiteria di Porto il malfunzionamento del motore principale di sinistra per una lesione dell'impianto di alimentazione con perdita di acqua di raffreddamento gli immediati contatti hanno consentito di disporre per motivi di sicurezza il rientro della nave in porto e il pronto intervento del rimorchiatore Vigata per fornire assistenza al traghetto presso la sala convegni dell'ex convento dell'abbadia a Canicati si è svolta la cerimonia di consegna da parte dell'associazione Neos Giovani della nostra città di un doppler fetale al consultorio familiare di Canicati Dottor Rifurchia quale valore e quale significato dare al gesto compiuto dall'associazione Neos Giovani che ha donato questo ecodopler fetale al consultorio ma sicuramente simbolicamente ma anche formalmente un grande gesto simbolicamente perché abbiamo verificato e hanno verificato che la sanità può anche funzionare e funziona da chi è l'utente il cittadino che verifica osserva giudica e con questo chiaramente sprona da responsabilità questo dono è un dono che ci assume di grande orgoglio ma di grande responsabilità che ci sprona a dover migliorare sempre di più a dover fare sempre meglio sicuramente questi giovani possono essere un seme ma una piantina una piantina che va coltivata gelosamente e da proteggere affinché questa pianta cresca ma non solo e faccia ancora di più faccia crescere altri germogli e che diventa una contaminazione positiva nella nostra città uno strumento quindi importante che darà la possibilità alle gestanti di poter diciamo così non andare in strutture anche private sicuramente sicuramente è un attrezzatore chiaramente che misura i battiti fetali per cui verifica chiaramente un livello ancora a un livello superficiale ma comunque dà una diagnostica abbastanza attendibile per cui eventuali difetti o comunque problematiche di prognosi possono essere poi indirizzate e inviate in un secondo livello per una diagnosi proprondita per cui già questo livello è sicuramente un salva tra virgolette situazioni che possono diventare assolutamente critiche e talvolta magari dare grande sofferenza oltre che chiaramente criticità sanitaria e questo secondo ci dà la possibilità di evitare questi ricorsi o queste situazioni negative Presidente non c'è due senza tre e si dice sempre nel senso che dopo i due defibrillatori adesso la consegna di un altro gesto da parte dell'associazione Neos l'ecodoppler fetale al consultorio Sì Devo dire che siamo reduci da questo incontro meraviglioso perché è il coronamento di un'iniziativa che è nata durante i giorni relativa alle festive di analizia nelle quali abbiamo venduto quelle bottiglie di vino che avevamo acquistato e rivenduto dopo averle personalizzate e con il ricamato abbiamo acquistato questo Doppler fetale che abbiamo appena donato al consultorio familiare un'attrezzatura che speriamo possa essere di aiuto noi crediamo che lo sarà abbiamo scelto il consultorio familiare perché sulla base di quelle che sono state le esperienze di nostri associati o comunque di persone a noi vicine che sono entrate in contatto di recente con questa struttura abbiamo capito che si tratta di una struttura che realizza davvero un'opera straordinaria e di conseguenza volevamo fare qualcosa di utile qualcosa di positivo per poter agevolare quest'opera quindi questa donazione viene vista in tal senso io vorrei ancora una volta ringraziare tutti coloro i quali quindi la cittadinanza in generale che ha contribuito in maniera importante acquistando le bottiglie di vino e che quindi ha dato una mano alla nostra iniziativa affinché oggi si potesse donare questa attrezzatura e volevo ringraziare in particolare i ragazzi della Vespanati Canigatì che hanno diciamo si sono inventati una iniziativa tutta loro durante il periodo natalizio e hanno fondamentalmente consegnato dei doni se vi ricordate a casa dei bambini in cambio di un contributo simbolico e l'intero ricavato di quell'opera è stata donata alla nostra associazione e ovviamente questo ha contribuito anche a raggiungere il nostro obiettivo di acquistare appunto il dopo il fetale quindi ancora una volta volevo ringraziare questi ragazzi e un grazie a tutti coloro i quali hanno dimostrato sensibilità e attenzione ancora una volta per le nostre iniziative adesso occupiamoci di ben altro parliamo di via Treves una traversa di via giudice Saetta a Canigatì dove i residenti della zona protestano vibratamente e vivacemente per le condizioni in cui sono costretti a vivere a parte la sede del manto stradale che è completamente dissestata un solo cassonetto per il conferimento dei rifiuti la sporcizia le erbacce che la fanno da padrone vedete un po' la situazione come lamentano il fatto che viene scarsamente se non del tutto non pulita la zona quindi chiedono con sollecitazione un vivo interessamento da parte dell'amministrazione comunale affinché provveda a rimuovere queste erbacce che state vedendo a far sistemare l'arteria con la riparazione del manto stradale e a far intervenire gli operatori dell'Adedaro per ripulire tutto quanto viene lasciato lì per strada vedete un po' la condizione in cui sono costretti a vivere gli abitanti di via Treves è una traversa di via Giudice Saetta a poche centinaia di metri dall'ospedale di Canicattì al via da oggi presso la sede del centro studio Leonardo Sciascia di via Placido Rizzotta Canicattì il corso professionale abilitante per l'esercizio di attività commerciali settore merceologico e alimentare somministrazione alimenti e bevande della durata di due mesi domani invece sempre presso il centro Leonardo Sciascia prende via il corso per capo azienda valido per la richiesta dei finanziamenti per il primo insediamento dell'agricoltura piano sviluppo rurale Sicilia 2014-2020 durata tre mesi entrambi i corsi sono autorizzati dalla regione siciliana questa sera alle 20.30 al Cine Teatro di Canicattì approda Angeli il nuovo film di Sabatore Bonaffini il giovane e talentuoso regista siciliano colpisce ancora e dopo successi dei pluri premiati pagati fratelli e diverse esistenze diregge un bellissimo fantasy per tutte le età dalla trama intrigante e scorrevole che tocca temi attuali suscitando emozioni e spunti di riflessione a Canicattì ha da crescere l'attesa per la proiezione del film e contribuisce anche la presenza di attori e comparse locali tra questi Kevin Bordonaro ha appena 14 anni il giovanissimo attore teatrale doppiatore e cantante canicattinese già distintosi su diversi palcoscenici siciliani lo vedete nella foto esordisce infatti al cinema come protagonista di questo film al fianco dell'attrettanto giovane Claudia Di Rocco e di un adorabile cucciolo di Jack Russell di nome Jack siamo al calcio il risultato della prima categoria Caltanissetta Rea Soltano attetivo Caltanissetta 2 a 0 Nicosia Branciforti 3 a 1 fuori casa Enna Canicattì 0 a 0 Ganci Rissa 3 a 1 Nuccio Castellana 1 a 1 Polisportiva Palma Barrese 1 a 0 Ravanusa Sopranese 2 a 0 Classifica Palma punti 50 Canicattì 47 Ravanusa 46 Atletico Caltanissetta 39 Ganci 36 Barrese 29 Sport Club Nissa 28 Enna 26 Rea Soltano 25 Cittadini Nicosia 22 Sopranese Branciforti 20 Città Castellana 19 Nuccio 8 Promozione Girone Aragona Sciacca 6 a 1 Audace Partenico Borgetto Accademia Impedocline 1 a 0 Casteltermini Raffanale Casteltermini 2 a 1 Città di Carini Salemi 3 a 0 Borgata Terre 9 Delfini Vergine Maria Fuori casa 4 a 0 Castelvetrano Libertas 2010 Folgore Salinunte 1 a 0 A Trapani Castellammare Ligni Trapani 2 a 1 Giocata Sabato Siculiana Favignana 4 a 1 Classifica Raffanali 64 Folgore 54 Libertas 49 Castellammare 44 Ligni Trapani 42 Siculiana 37 Borgata Terre 9 Eragona 34 Accademia Impedocline 33 Casteltermini 31 Città di Carini 28 Delfini Vergine Maria Audace Partenico Borgetto 27 Salemi 26 Favignana 25 Sciacca Chiude con 18 Eccellenza Dattilo Noir Parmonval 3 a 2 A Camarata Mazzara Camaratt 3 a 1 A Morreale Alcamo Morreale 3 a 1 Mussolini San Cataldese 1 a 1 Ribena San Giovanni Gemini 2 a 1 Riviera Marmi Custonaci Profavara 1 a 1 A Serra di Falco Atletico Campofranco Serra di Falco 3 a 2 Sportclub Marsala Paceco 2 a 0 Classifica Sportclub Marsala 56 Mazzara 45 San Cataldese 44 Mussomeni 42 Profavara 41 Parmonval Atletico Campofranco 40 Ribena 39 Dattilo Noir 37 San Giovanni Gemini Riviera Marmi Acustonaci 33 Alcamo 32 Paceco 31 Camaratt 30 Chiude Serra di Falco 15 Siamo alla serie D Girone I Agropoli Roccella 4 a 2 Acragas Città dei Tempri Sorrento 4 a 0 Neapolis Comprensorio Montalto 3 a 1 Fuori casa 2 torri Noto 1 a 1 Interregio Tiger 4 a 1 Giocata Sabato Leonfortese Battipagliese 2 a 0 Novagioese Torre Cuso 3 a 1 Nero Stellati Frattese Progreditor Marcianisi 2 a 1 Fuori casa Rende Orlandina 5 a 0 Allunga In classifica Lacragas Di punti Adesso ne ha 56 Torre Cuso 49 Rende Agropoli 47 Nero Stellati 43 Neapolis 42 Progreditor Marcianisi 40 Leonfortese 39 Roccella 2 torri Interregio 34 Novagioese 30 Sorrento 27 Noto 26 Tiger 25 Battipagliese 23 Comprensorio Montalto 16 Orlandina Chiude con 6 punti E anche noi Concludiamo il nostro telegiornale Con una comunicazione Di carattere sociale A caricatina Farmacia di turno Che assicurerà il servizio Per la serata E la nottata di oggi Lunedì 9 marzo E la comunale Dottoressa Lucrezia Cuba Sita Inviare a Carlo Alberto Nel quartiere Oltre Ponte Recapito telefonico 022 85 38 65 Grazie per aver preferito L'informazione di Teleradiocaricati Appuntamento ai prossimi Telegiornali E buon proseguimento I nostri programmi Grazie a tutti Grazie a tutti